Tra i banchi della fiera antiquaria anche Leslie e Robert Zemex, come documentato dai due su Instagram, dove hanno condiviso alcuni scatti con la didascalia Magnificent Day in Arezzo. Per la coppia, lei documentarista, lui celebre regista hollywoodiano, autore tra gli altri della saga di Ritorno al Futuro, Forrest Gump e Cast Away, si tratta di un ritorno. Già nel 2019 avevano trascorso alcuni giorni in vacanza in Toscana e anche in questo caso immancabile la tappa tra le vie del centro storico Aretino. Quella di novembre però è stata un'edizione della fiera antiquaria che ha dovuto fare conti anche con le conseguenze del maltempo. Al risveglio, in alcune zone del percorso, gli antiquari hanno infatti trovato coperture di velte, strutture dei banchi piegati e cartelloni abbattuti. Una cinquantina invece gli espositori bloccati dall'alluvione che non hanno potuto prendere parte a questa edizione della fiera. Evidenti gli spazi vuoti sia in via Guido Monaco che in Piazza Grande. È stata l'ultima edizione prima delle iniziative del Natale e se al prato è già iniziato il montaggio del villaggio e delle 40 casine dedicate all'artigianato, sono stati già assegnati anche i posti per gli antiquari che dovranno traslocare da Piazza Grande. Per l'edizione di dicembre sono già 11 quelli che hanno scelto via Sassoverde e Piazza San Domenico, le due location aggiuntive individuate dal comune.